Ciao a tutti, ecco cosa succede al tuo corpo se assumi papaya ogni giorno. Allora, la papaya è una pianta originaria delle zone tropicali del Centro America e del Sud America, ma viene coltivata anche in altre parti del mondo. Diciamo che le sue proprietà benefiche sono tantissime. Allora, in particolare la papaya contiene un enzima, la papaina, che ha un'azione molto utile per migliorare la digestione. E inoltre è una miniera di antiossidanti. Ad esempio ha il selenio, i flavonoidi, il carotene, la provitamina A, che trasforma, che l'organismo trasforma in vitamina A. I suoi carotenoidi principali sono il licopene e la bicriptoxantina, che insieme agli altri ossidanti, diciamo, proteggono le cellule dei radicali liberi. Quindi trasforma il tuo corpo ringiovanendolo, comunque limitando l'invecchiamento. E diciamo, quindi, i flavonoidi, tra l'altro, regolano la permeabilità dei vasi sanguigni, quindi sono importanti per il microcircolo e per l'irrogazione del cervello, diciamo, in particolare del cervello. E poi cerca di neutralizzare la papaya i danni di una dieta squilibrata, perché stabilisce, ristabilisce in un organismo l'equilibrio compromesso da un'alimentazione squilibrata e povera di frutta fresca e verdura. Quindi protegge dallo stress, dal poco riposo e, insomma, da un po' dalla vita che abbiamo. Aiuta a ristabilire l'equilibrio acido-base facendolo virare verso l'alcalinità. Quindi serve anche per depurare l'organismo, quindi ha un sacco di, diciamo, di proprietà la papaya. E quindi consumare papaya è molto importante perché, diciamo, favorisce anche le sostanze di scarto dell'organismo, purificando un po' il sangue, insomma. Questo frutto è una sorta di spazzino dell'intestino, stimola anche i reni, aiuta a ridurre il sovrappeso, riattivando un po' il metabolismo, insomma. Quindi è un frutto molto importante, bisognerebbe introdurlo nel consumo. Tra l'altro la papaya è anche un frutto buono, quindi molto piacevole. Vi sono anche altre modalità, ad esempio esiste anche la papaya fermentata che diventa, a quel punto lì, un integratore, si può ottenere in polvere, diciamo così. Però, comunque, se uno ha l'occasione di nutrirsi del frutto, è anche un frutto, appunto, buono, per cui, come dire, è anche piacevole mangiarsi la papaya. Quindi vale veramente la pena introdurre, tra i frutti, cioè mangiare frutto intanto, però la papaya è uno di quelli che fa bene, fa bene. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!